Paura durante la regata del Boccolo a Venezia. Cinque imbarcazioni si sono capovolte e i velisti sono finiti in acqua. L'incidente è avvenuto nel canale del Tortolo, nella laguna veneziana. Sul posto sono affluite le unità di soccorso. I vigili del fuoco di Venezia, intervenuti con due imbarcazioni, hanno tratto in salvo sei velisti, consegnandoli al personale sanitario del 118, tra loro una persona con sintomi da ipotermia. Altri velisti sono stati tratti in salvo da altre imbarcazioni presenti in laguna. Sopra l'area si è alzato l'elicottero Drago 80 del reparto volo che ha fornito le indicazioni dettagliate per il recupero delle persone. Presenti anche i sommozzatori che hanno recuperato le imbarcazioni.